Dopo il grande successo del musical Il Re Leone, la compagnia Neverland torna al Teatro della Fortuna di Fano con lo spettacolo intitolato Aladin, un musical geniale. Lo ha seguito per noi Lino Balestra. Sì Marco buonasera, siamo nel Teatro della Fortuna, siamo in platea e siamo qui per assistere alle prove di un musical che andrà in scena il 21 e il 23 di giugno da parte della compagnia Neverland che mette in scena appunto la fiaba di Aladino che tutti quanti conosciamo attraverso anche il film di Walt Disney. Noi siamo qui per farvela conoscere un po', naturalmente intervisteremo qualcuno dei protagonisti, per intanto noi vi lasciamo con qualche minuto di prove così per farvi assaggiare un po' questo musical, un musical geniale. Allora questo è un po' l'anticipo delle prove, adesso noi faremo una piccola irruzione sul palco, andiamo a conoscere qualcuno dei protagonisti se Francesco con la sua camera mi segue, stiamo proprio entrando, irrompendo quasi nella scena. Adesso mentre proprio loro provano io salgo su e buonasera, scusate, salve, piacere Lino Balestra, Fano TV, grazie, allora siamo nel telegiornale di Fano TV, quindi insomma salve. Allora lei è un genio, giusto? Sono il genio della lampada. Ecco, sì è abbastanza geniale come trovata, fra poco insomma tutti quanti, fanesi e non, potranno vedere il vostro spettacolo. Certo, il musical Aladin, eccolo, eccolo lì Aladin, Aladin vieni, fate vedere, è un giovanotto, un caro ragazzo lui, Aladin, un musical geniale, martedì 21 e giovedì 23 giugno al Teatro della Fortuna di Fano, grazie. Senti, questo genio qui ti fa nero praticamente. Esatto, no è molto difficile starle dietro con tutte le battute che improvvisa anche nell'ultimo momento, ma ormai siamo abituati comunque. Siamo una bella coppia, che ne dite? Sì, ci divertiamo tutte le volte a fare le prove perché ogni volta è diverso, non c'è da annoiarsi di sicuro con questo spettacolo. Bene, è una genialata possiamo dire. Esatto, sì, proprio così, che te ne pare, vuoi esprimere un desiderio lì? No, no, ne avrei tre, sono tre i desideri che si esprimono. Dai, dai, va bene, va bene, facciamo tre. Va bene, poi in separata sede esprimeremo tre desideri, queste sono le prove per intanto, insomma, quindi ricordate il 21 e il 23 di giugno. Giugno, sì, al Teatro della Fortuna di Fano, ore 21, per i più piccoli e i più grandi. Bene, io restituisco la linea allo studio, intanto vi lascio con qualche piccolo frammento ancora di prove. Siamo così lontani che ora siamo liberi, portare le volte all'infinito, l'orizzonte che scopla, non dovremo andare indietro.